Noi abbiamo sottoscritto e poi fatto licenziare con il collega Pietrucci in particolar modo due norme per quanto riguarda l'istituzione della Film Commission in Abruzzo, poi novellata con la organizzazione che prevedeva la Fondazione e anche le prime risorse. Non hanno adoperato queste risorse e la nostra denuncia serve a far chiarezza. Attorno al caso che esplode per la vicenda nelle sale cinematografiche del film L'Arminuta, che riprende il testo vincitore del Campiello e non prevede scene girate in Abruzzo, ecco, è il momento di fare chiarezza perché il Partito Democratico ha portato avanti queste due norme, due norme che poi non sono state applicate, eseguite da questo governo regionale. La seconda denuncia è che loro hanno avuto a disposizione 341 milioni di euro di rimodulazione di risorse, tra i 218 del masterplan e i 123 del cosiddetto accordo Provenzano-Carfagna hanno messo zero per quanto riguarda questo grande tema. Il terzo è una proposta. Oggi insieme a noi c'erano due sindaci, Rocca di Mezzo e Vasto, a rappresentanza delle aree interne e delle aree costiere, ma ci sono tantissimi altri territori, portatori di interesse e amministratori locali che sono certo potranno e saranno coinvolti e chiedono a noi come Regione di dare risposta.